E vorrei anche dire ciao Luca, si orgoglioso di quello che hai costruito e dei valori che hai dato alla nostra città e sono convinto che ci sta guardando e mi sta guardando sorridendo e che sta dicendo, avete visto, che ci siete riusciti anche senza di me e questo io credo che sia davvero straordinario e che dobbiamo appunto ricordarci che ci sono percorsi che aprono dei sentieri, che aprono delle piste di lavoro, che costruiscono un modo nuovo, diverso e bello di stare insieme, di crescere, di imparare, di valorizzare la storia di una comunità.